Per facilitare il passaggio dalla posizione subina alla posizione seduta, innanzitutto dobbiamo far sì che il bambino sia motivato a compiere questo tipo di spostamento. Per attirare la sua attenzione possiamo utilizzare un zonaglino posto di fronte a lui all'altezza del volto, a circa 20 cm di distanza. Quando siamo sicuri che il bambino abbia agganciato il gioco, lo aiutiamo nel movimento, sostenendolo con una mano all'altezza del capo e delle spalle, a seconda del grado di sostegno di cui necessita, e lo accompagniamo a venire verso di noi. Invece, se il bambino è in grado di collaborare maggiormente, possiamo sostenerlo a livello delle spalle con una mano, mentre con l'altra stabilizziamo il bacino. E con un movimento diagonale, lo accompagniamo a venire verso di noi. Nel frattempo, l'arto che rimane libero, in questo caso il sinistro, funge da appoggio.